Musica Si era detto che l'Atalanta sarebbe stato l'avversario peggiore in questo momento per il Cagliari e lo si è dimostrato nel campo. Atalanta in gran forma che ha tenuto il pallino del gioco per l'intera gara che ha costretto il Cagliari a una partita difensiva riuscita per metà, riuscita per un solo tempo e poi invece fallita con il gol di Etebur che ha scombinato tutto e ha rovinato quelli che erano i piani di Marani. Il Cagliari ha messo in luce tutte quelle che sono le sue pecche in questo momento, la grande difficoltà a fare gioco, la grande difficoltà soprattutto ad offendere, ad avere un gioco costruttivo che possa imporsi alla tensione dell'avversario. Un Cagliari che ha contenuto bene, ha chiuso le corsie di passaggio, ha saputo neutralizzare l'Atalanta con la gran corsa, con il gran pressing, ma poi quando si è trattato di andare ad attaccare si è visto poco, anche dopo aver subito il gol. Questa è certamente la prima preoccupazione perché comunque le squadre dietro cominciano a rinvenire. È stata quasi dimezzata la distanza rispetto al terzo-ultimo posto con la vittoria del Bologna sul campo dell'Inter. Il Cagliari ora ha quattro punti di vantaggio sulla terza-ultima, ma è lo stato di forma dei rosso-blu che preoccupa, senza grandi soluzioni offensive. Quest'oggi c'era l'esodio di Terò, che doveva essere la carta da giocare dopo le partenze di Sao e Farias. Terò si è infortunato, un problema muscolare che ha costruito il Cagliari a giocare in dieci nell'ultima parte del match, quindi già in difficoltà anche da questo punto di vista, perché alle spalle di Pavoletti, Joao Pedro e Cerri, che peraltro è infortunato a sua volta, è rimasto solamente Desporov, il giocatore bulgaro, che si diceva che proprio in quanto uno straniero, in quanto giovane, sarebbe preferibile che si adattasse pian piano. Dobbiamo sperare a questo punto che Desporov invece sia pronto per dare una mano al Cagliari, un momento delicatissimo della stagione, in un campionato in cui chiaramente devi essere all'altezza della situazione. Il fatto di aver perso punti dalle concorrenti, il senso di sfiducia che si percepisce, il fatto di non riuscire a fare gioco neanche nelle partite interne, ci pone in una condizione di grave allarme. Peraltro la vigilia di un match altrettanto difficile, la trasferta a Milano, che potrebbe ridurre ulteriormente le distanze dalle concorrenti. Insomma, il Cagliari è in un momento assolutamente delicatissimo e la contestazione a fine partita ci può stare se ci mettiamo dalla parte dei tifosi delusi. È sicuramente invece una brutta botta per dei calciatori che probabilmente non pagano per loro volontà quello che sta succedendo, ma anche per una precarietà nel momento in cui vengono disposti in campo e per una precarietà anche nell'allestimento, forse non da oggi, ma a suo tempo di quella che la Rosa qui si è tentato di porre rimedio. Dovendo cercare un punto positivo, per la prima volta per gli ultimi 20 minuti abbiamo visto un esterno di sinistra che spinge e che va a crossare, Pellegrini. Giovanissimo anche lui che probabilmente sentirà il carico di questa responsabilità, ma che dimostra anche una cosa, che quel ruolo è rimasto scoperto per troppo tempo e che adesso si tenta di recuperare sperando che ci possa essere veramente la forza, l'energia, ma anche la strategia giusta per riuscire a superare un ostacolo di questo tipo. Un Cagliari che è andato avanti sempre in modo compassato, senza grandi crisi, ora la crisi la sta vivendo. Grazie.